I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, insieme ai colleghi dello squadrone riportato cacciatori Calabria, hanno effettuato un sequestro record di cocaina a Candidoni, in provincia di Reggio Calabria. I militari dell'arma, eseguendo una perquisizione all'interno di un'azienda, hanno scoperto, ben nascosto in diversi sacchi contenenti pallet, ben 266 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 285 chili, che considerando il prezzo medio che potrebbe raggiungere lo stupefacente una volta messo sul mercato, che si aggira sugli 80 euro al grammo, il valore dell'intera partita sarebbe di circa 23 milioni di euro. I carabinieri hanno anche tratto in arresto un rosarnese di 40 anni, che però non ha dato spiegazioni sulla provenienza dello stupefacente e che al termine delle formalità di rito è stato condotto alla casa circondariale di Palmi e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il sequestro si colloca tra quelli più importanti operanti dai carabinieri del gruppo di Gioia Tauro negli ultimi anni e gli inquirenti ritengono che le analisi che saranno condotte sullo stupefacente confermeranno l'elevata purezza della cocaina, che quindi sarebbe stata sicuramente tagliata con altre sostanze.